Ciao! Ti sei già iscritto al nostro canale? Allora andiamo a vedere il nuovo volantino. Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Ehi, lo sai che se arriviamo a 20.000 iscritti pianteremo un nuovo albero? Dai! Iscriviti anche tu! Su trova volantini.it, le offerte della tua città a portata di un pic. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per i tuoi like! Iscriviti al nostro canale per non perdere nuove offerte. A presto!